Qui, camminando attraverso i loculi del cimitero di Luco de Marzi, intorno a mente la storia del Comunico de Marzi, in particolare di gente defunita, ma ci sono anche molti giovani morti per malattia, iperdisgraci, e dal medio adesso dovrebbe esserci quasi 80 anni, pensa, ma molte persone che muovono 50-60 anni, fanno decenni più, anzitembo. Questa parte qui, non so perché non la fatti là, ma ecco la reticenza, ma qui c'è arrivata, qui è ancora piena di fiori, è passata poco più in mezzo. Io sono a classe 1967, quando prima anche finisco qua, non si sa quando. Questa è la fattina, la notte arrivata in troppesa, in fiori, qualcuno timolato di recente. Questa è la buonanima, la buonanima di mia madre e di mio padre. Quanti sacrifici, quali sogno spesso. Per me sono luce, non solo morte, nei miei pensieri, nei miei sogni.